E' stato convocato per lunedì 26 novembre alle ore 18 il Consiglio Comunale di Battipaglia. La seduta avrà un solo punto all'ordine del giorno, il resoconto dopo due anni di mandato dell'amministrazione guidata da Cecilia Francese. Dopo i risultati verrà presentato un documento programmatico contenente una serie di obiettivi da condividere con l'intero Consiglio Comunale.